Monte Grappa Grane è anche sulla provinciale 140 General Giardino, dove proseguono i lavori di messa in sicurezza dell'area colpita da caduta massi e da piccole frane di materiale roccioso. Sono stati posizionati 2000 metri quadrati di reti di sicurezza e ora si stanno fissando queste reti con corde d'acciaio. Nelle prossime settimane inizierà l'installazione di tre barriere paramassi lungo i canaloni più pericolosi.